La siccità record che ha contraddistinto lo scorso anno sta per ripetersi e le conseguenze sono drammatiche. Gli agricoltori alzano la voce e lanciano l'allarme. La riduzione della semina di mais si attesterebbe già al 30% in meno. È un problema ancora più grosso dell'anno scorso. Non era mai successo. No, non era mai successo. Una siccità, un calo delle falde così non era mai successo. Penso che nell'arco degli ultimi 50 anni noi non abbiamo memoria di questa cosa, sicuramente. Cosa bisognerebbe che piovesse in questo momento? In che modo? Per quanto tempo? Bisognerebbe fare come una volta quando pioveva le settimane intere, ma dovrebbe venire anche piano e non le bombe d'acqua, che altrimenti sono tutte delle acque che non restano nel territorio. E già, la prospettiva è anche peggio. Se nell'immediato non sono previste precipitazioni copiose e gentili, il rischio a bombe d'acqua, che si sono ripetute numerose volte lo scorso anno, è invece un'eventualità molto probabile, che necessita di un concreto cambio di rotta per ridurre il rischio idrogeologico. Quello che si sta pensando da tanti anni è di trattenere l'acqua, di fare i famosi invasi, di utilizzare, non lo so, le ex cavi, i bacini, tutto quello che può servire per trattenere l'acqua quando viene da sola, dal cielo, e utilizzarla nei momenti di bisogno, nei periodi estivi. Altrimenti, se un altro anno così, sicuramente avremo un'agricoltura che è in ginocchio, sicuramente. Non a caso si parla di banche d'acqua. Sì, sì, ma ci vorranno degli invasi che possono trattenere, non dico tutta l'acqua che viene nell'inverno, ma quasi. Per pianificare questo è necessario, e non più rimandabile, tornare ai tavoli con tutti gli enti preposti, dalla regione in primis, fino ai consorsi di bonifica e procedere. Sono già stati fatti passi concreti? Ma passi concreti penso veramente pochi, anche perché sono delle cose a livello di infrastrutture che ci vogliono anni, anni di progettazione. I tavoli sono già stati fatti e il problema è che, ripeto, sono cose che purtroppo hanno una programmazione pluriennale.